Non è ancora stato arrestato, ma potrebbe avere le ore contate il responsabile della sparatoria avvenuta in un salone da barbiere nel centro di Palo del Colle. I carabinieri sono sulle sue tracce da ieri mattina, da quando l'uomo, a volto scoperto, si è avvicinato all'ingresso del locale in Viale Mediterraneo ed ha esploso alcuni colpi di pistola. Sei, sette i proiettili finiti contro la vetrata ed una parete del salone. All'interno erano presenti solo due persone, il giovane titolare dell'attività ed un anziano cliente. Entrambi, fortunatamente, non sono rimasti feriti. Il motivo del folle gesto resta ancora un mistero. Tra le ipotesi avanzate dagli inquirenti, quella dell'avvertimento, o forse il vero bersaglio, sarebbe stato una terza persona. Al vaglio dei militari, i filmati registrati da alcune telecamere di sicurezza installate nei pressi del salone, che si trova a due passi dalla stazione dei carabinieri. L'episodio è stato anche al centro di un incontro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, riunitosi ieri pomeriggio in prefettura. Al termine del vertice è stato deciso di intensificare i controlli sul territorio, anche con l'intervento dei reparti speciali della polizia. Di recente, nel comune di Palo del Colle, sarebbero avvenuti altri episodi criminali sui quali sono tuttora in corso le indagini da parte delle Forze dell'Ordine.